Bentornati sul canale Italia. Oggi con le ultime notizie come Aurora Ramazzotti, figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Luntziker, ha rotto il silenzio sulle voci di gravidanza, l'influencer e conduttrice ha fatto una richiesta chiara Ecco cosa ha detto. Nei giorni scorsi, un clamoroso scoop pubblicato in esclusiva dal settimanale Chi ha infiammato i social Aurora Ramazzotti, conduttrice e influencer, figlia dell'ex coppia d'oro del mondo dello spettacolo nostrano Eros Ramazzotti e Michelle Luntziker, è in dolce attesa In seguito, nel corso di un'intervista, il direttore di Chi, e conduttore del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini, si è detto pentito della pubblicazione della notizia, non sapeva Aurora fosse ancora al terzo mese Il giornalista, non avrebbe altrimenti pubblicato la notizia. Stando a quanto trapelato nelle prime ora post scoop, sarebbero stati Michelle Luntziker e Eros Ramazzotti a spifferare tutto, involontariamente I due, al settimo cielo per la notizia, avrebbero confidato tutto a cari amici. Ma non ci sono conferme in tal senso.Le parole di Aurora Ramazzotti In questi giorni, Aurora Ramazzotti non ha commentato la notizia pubblicata da Chi e, alcuni suoi storici amici, come l'influencer e vincitore del Grande Fratello Vip 5, Tommaso Zorzi, hanno messo in dubbio l'indiscrezione La figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Luntziker si è limitata, con la sua solita ironia, a rispondere in maniera indiretta In queste ore, Aurora, si trova a Siviglia, in Spagna, dove papà Eros inizierà il tour che lo porterà in tutte le più grandi città europee Intercettata da Lanza, la conduttrice influencer, che si trova in Andalusia con il suo compagno Goffredo Cenza, ha rotto il silenzio sulla vicenda, ho sempre parlato di tutto, ma stavolta rispettate il mio silenzio Ogni cosa a suo tempo. La figlia di Eros e Michelle chiede rispetto per la privacy Aurora Ramazzotti non ha ne confermato, né smentito la notizia pubblicata nei giorni scorsi dal settimanale Chi, tanto meno le parole del direttore Alfonso Signorini Dunque, non essendoci conferme da altri familiari, non sappiamo ancora con certezza se sia in dolce attesa o meno Intanto i social sono dalla parte della conduttrice influencer In molti già al tempo della pubblicazione di Chi della Notizia, aveva accusato il settimanale di non rispettare la privacy della giovane Cosa ne pensi delle notizie di cui sopra, ti preghiamo di mettere mi piace e commentare la tua opinione in modo che possiamo discutere Non dimenticare di iscriverti al canale per rimanere aggiornato sulle ultime novità Arrivederci, ci vediamo al prossimo video